Cosa si aspetta dalle erettive regionali della Calabria? Tanta fiducia, tanta fiducia che i calabresi ci hanno dato l'anno scorso. Poi purtroppo per la morte di Iole Santelli dobbiamo richiamare i calabresi a ottobre a confermare il buon governo della Lega del Centro-Restra, però ho il cuore pieno perché ci chiedono tanto lavoro, infrastrutture, scuole, importo, sostegno agli agricoltori, ai pescatori, ho parlato con alcuni pescatori che vorrebbero continuare a vivere dei frutti del mare da loro, quindi noi come Lega siamo abituati a promettere poco e a lavorare tanto. Dove governiamo in tante regioni italiane la sanità funziona, questa sarà una priorità, il commissariamento di più di dieci anni da parte di Roma non ha funzionato, ci sono più debiti e meno ospedali e meno messi. E quindi riportare sotto il controllo dei calabresi la sanità calabrese sarà uno dei primi atti della prossima giornata. C'è ancora qualcosa?